Musica Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco L'applauso di oggi è un po' più lungo, è un po' più caloroso Perché in questo applauso sono racchiusi i nostri auguri per il Papa che oggi compie 82 anni Tanti auguri davvero Buonvenuto invece a Don Gabriele Maria Corini che è parroco di Sant'Ambrogio in Alassio Biblista e insegna alla facoltà teologica dell'Italia settentrionale Hai fatto gli auguri al Papa tu? Mi pareva bello cogliere questa occasione per fare in diretta qui la vostra trasmissione del diario di Papa Francesco È un augurio che penso si estende da tutta la Chiesa Per colui che sente anche il peso, la fatica ma la gioia di guidarci sempre di più verso l'amore del Signore Quindi è un grande grande augurio in questo giorno carico di affetto Di affetto sincero, affetto filiale verso il Papa che appunto anche il termine lo ricorda È il Padre che ci accompagna ogni giorno in questo nostro cammino E i tuoi sono anche auguri un po' personali perché hai incontrato diverse volte E proprio un dialogo, un'intervista che hai fatto a Papa Francesco Apre il tuo ultimo libro, possiamo vedere la copertina Si chiama La Riforma del Cuore È un libro molto interessante, correggimi se sbaglio nella descrizione Perché tu hai provato a prendere un documento, l'Evangelii Gaudium Che tutti noi consideriamo fondativo, programmatico del pontificato Con tanti spunti soprattutto pastorali e teologici di riforma E però invece di tradurlo a livello del corpo ecclesiale L'hai tradotto a livello personale Che poi è un'operazione che tante volte fa Ecco qui appunto non la riforma della Chiesa ma la riforma del cuore Ed è un'operazione che tante volte ha fatto anche Papa Francesco In particolare negli incontri se vogliamo più istituzionali Dove c'era più da dire che cosa andava strutturalmente cambiato Mi riferisco agli incontri con la curia romana Il Papa tante volte invece di parlare un linguaggio diciamo tecnico giuridico Ha parlato il linguaggio del Vangelo Se vogliamo il linguaggio del prete E ha parlato di conversione del cuore, conversione personale Sentiamo uno di questi passaggi Si riferisce all'incontro di due anni fa con la curia romana Torno a ribadire l'importanza della conversione individuale Senza la quale saranno inutili tutti i cambiamenti delle strutture La vera anima della riforma sono gli uomini Che ne fanno parte e la rendono possibile Infatti la conversione personale supporta e rafforza quella comunitaria Esiste un forte legame di interscambio tra l'atteggiamento personale e quello comunitario Una sola persona può portare tanto bene a tutto il corpo O potrebbe danneggiarlo e farlo ammalare E un corpo sano è quello che sa recuperare, accogliere, fortificare, curare e santificare le proprie membra Insomma comunque è una cosa spiazzante Tutti aspetti associato alla parola riforma Qualcosa appunto di istituzionale, politico in un certo senso E ti ritrovi invece un discorso intimo Ma qual è questa riforma del cuore che ci chiede Papa Francesco E che si capisce che è scritta nell'Evangelii Gaudium Cioè che cosa dice a ciascuno di noi l'Evangelii Gaudium? Sì, prima di tutto vorrei sottolineare come proprio nel dialogo che è avvenuto tra noi E che caratterizza l'introduzione a questo testo Il Papa più volte ha ribadito le stesse parole che abbiamo appena ascoltato Non tanto una riforma delle istituzioni nel cambiare tanto per cambiare Ma riforma nel ridare forma alla propria vita sul modello di Gesù E questo riguarda sia i suoi più stretti collaboratori Quindi coloro che ogni giorno nella curia romana sono chiamati a sostenere il ministero e l'azione del Papa Fino a ogni battezzato Io oserei dire fino a ogni uomo Ecco che sente la necessità e che nella propria vita deve sul modello di Gesù Riformare il proprio cammino, la propria esistenza E allora c'è un aspetto particolare che fa da filo conduttore L'Evangelio Gaudium si apre con questa ripresa anche di un concetto che più volte ricordava Papa Benedetto XVI La fede cristiana non è un insieme di dogmi o di norme Ma è un incontro, è un'esperienza di incontro con Gesù Ecco l'inizio dell'Evangelio Gaudium ci ricorda proprio questa esperienza fondamentale Che cosa porta all'incontro con Gesù? Apporta un cambiamento, ecco la riforma, la conversione nell'orizzonte della vita Che è il primato del dono Così anch'io ho voluto sintetizzare nella prima parte di questo libro Il primato del dono vuol dire che sul modello di Gesù Che è colui che costantemente ha donato la propria vita Anche noi siamo invitati a non racchiuderci nella nostra autosufficienza Ma nella relazione, nel dono di sé agli altri, a tutti i livelli E questo c'è il rischio che può diventare più problematico Proprio a volte all'interno dello strutturalismo Così anche il Papa a volte lo definisce, anzi utilizza un termine un po' più caro Il clericalismo Clericalizzare per lui vuol dire strutturalizzare A tal punto che la persona si identifica nella struttura E non c'è più la possibilità allora del dono di sé, della relazione Che è fondamentale ecco in questo cambiamento Della propria vita, della propria esistenza sul modello di Gesù A parlare di conversione, di modello di Gesù, di dono di sé Che significa andare ai fondamentali del cristianesimo E qual è, se c'è, un elemento caratteristico di Papa Francesco su questo? Una sottolineatura che in qualche modo è sua In fondo l'Evangelii Gaudium quando la leggiamo come documento ecclesiale Abbiamo alcune idee di fondo chiare che possiamo attribuire a Papa Francesco A un cammino della Chiesa, della Chiesa latinoamericana A Paolo VI, insomma Però ci sono degli elementi in cui le identifichiamo E questa conversione, qual è la conversione a cui ci chiama Papa Francesco? Come ha ricordato molto bene e anche sempre nel dialogo con lui Papa Francesco ha ricordato che l'Evangelii Gaudium ha queste radrici profonde Sia nel documento di Aparecida e ancora di più nel testo dell'Evangelii Inunziandi di Papa Paolo VI Però se vogliamo aggiungere, ecco, qual è la caratteristica È che c'è un ripensamento da parte dello stesso Papa Francesco Posseremo dire nella concretezza della appunto relazione quotidiana Cosa mi spiego in una parola Passare da una fede incentrata su una norma da vivere, da applicare A un saper leggere la realtà quotidiana Dall'esperienza dell'incontro con le persone che ogni giorno si incontrano Da questa esperienza, saper rileggerla alla luce del Vangelo Per poi passare a un'azione operativa, concreta Guarda, questa concretezza secondo me è colto un punto centrale Perché Papa Francesco quando parla di conversione Ne parla come appunto di un'esperienza Un'esperienza che lui usa un verbo L'ha usato per esempio in una udienza durante l'anno giubilare Che adesso andiamo a sentire Questo verbo è toccare Che uno quando pensa, che è un verbo concreto Uno pensa che la conversione è un fatto interiore, spirituale E lui invece usa il verbo toccare Sentiamo Quando Gesù chiama alla conversione Non si erge a giudice delle persone Ma lo fa partire dalla vicinanza Dalla condivisione della condizione umana E quindi della strada, della casa, della mensa La misericordia verso quanti avevano bisogno di cambiare vita Avveniva con la sua presenza amabile Per coinvolgere ciascuno nella sua storia di salvezza Gesù persuadeva la gente con l'amabilità, con l'amore E con questo suo comportamento Gesù toccava nel profondo il cuore delle persone Ed esse si sentivano attratte dall'amore di Dio E spinte a cambiare vita Ad esempio, le conversioni di Matteo e di Saccheo Sono avvenute proprio in questo modo Perché hanno sentito di essere amati da Gesù E attraverso di Lui, dal Padre La vera conversione avviene quando accogliamo il dono della grazia E' un chiaro segno della sua autenticità E che ci accorgiamo delle necessità dei fratelli E siamo pronti ad andare loro incontro Tu sei parroco, oggi parli a una parrocchia un po' più grande Ma la domanda è in fondo la stessa Cioè che cosa diresti, cosa dici ai tuoi parrocchiani sulla conversione Se tu potessi indirizzarla Su che cosa vorresti che noi, i tuoi parrocchiani, cambiassimo? E tu come parroco? Sì, sì, ma io riprendo proprio lo stesso verbo che ha utilizzato Papa Francesco E perché anche nel testo che ho proposto Sciego anche la concretezza di una figura evangelica Quella di Matteo Ce l'abbiamo pure qua, il Caravaggio, la chiamata di Matteo Perché è proprio una figura emblematica nel lasciarsi toccare La conversione noi a volte la immaginiamo come uno sforzo personale Sono io che cambio la mia vita, mi oriento diversamente Che divento più bravo Ma ricordiamoci che anche per il figlio della parabola Prima di una decisione personale C'è la decisione del padre di non aver mai abbandonato quel figlio E di aspettarlo Quell'amore che si era radicato proprio nel cuore di questo giovane E che lo ha mosso a tornare a casa Così anche per Matteo Quell'esperienza iniziale dell'essere stato chiamato Nonostante la sua vita di tre peccatori peggiori pubblicani E pian piano nel vivere accanto al Signore Lasciarsi toccare da Lui Nel lasciarsi cambiare la vita Ecco questa è la conversione Lasciare ogni giorno Papa Francesco dice anche spesso Lasciarsi guardare Perché il Signore usa questo verbo lui spagnolo Ci primea Cioè ci precede E allora la conversione è lasciarsi toccare Nella certezza che Signore mi precede e mi indica la strada Quindi lo sforzo maggiore è il suo E poi è chiaro che c'è la mia adesione È il mio desiderio di cercare Di incontrarlo Di lasciarsi incontrare da Lui E allora è questa relazione d'incontro Che è la conversione E secondo te Come dire Noi siamo poco disponibili all'incontro E più orientati al Come dire Alla virtù Al miglioramento di noi stessi Al pensare di poter fare Tutto da soli Papa Francesco Ha dato due chiare indicazioni Soprattutto alla nostra Chiesa italiana Ma anche Ultimamente In modo più generale Su due pericoli Che sono sempre presenti Nella vita cristiana Cioè quella Di crearsi una fede quasi Totalmente trascendente Astratta Giansenismo Oppure una fede totalmente convinta Di essere radicata Solo nelle strutture Pelagianesimo Ma mi fai qualche esempio Perché il Papa Quando parla di queste cose qui Oppure Che ne so Dice Non fidatevi soltanto Dei piani pastorali Certo Delle strutture Però lì sta parlando Soprattutto a quelli Che hanno delle responsabilità Prevalentemente Ai preti Religiosi E a qualche laico Particolarmente Impegnato Ma questi stessi difetti Strutturali Tu li vedi Nella vita di fede Delle gente comune Mi fai qualche esempio Ci fai capire Faccio un esempio Molto semplice Proprio dell'esperienza parrocchiale Quando ho incontrato Per la prima volta I catechisti Della mia parrocchia Io ho detto loro questo Guardate Certo è importante Che i ragazzi Si preparino Ad avere anche Una consapevolezza Dei doni Che ricevono Nei sacramenti Ma questo viene dopo A un qualcosa Di più importante Che nell'esperienza Del catechismo Loro possano fare L'esperienza Di incontrare L'amore di Gesù La persona di Gesù Quindi se anche Immediatamente Non sanno magari Subito dire in ordine I sette sacramenti Questo col tempo arriverà Ma se nel loro cuore Si riesce concretamente Proprio nelle cose Più semplici Cioè nel sentire Questo passaggio Anche di amore Nel sentirsi essere accolti Per quello che sono Per come sono Questo rimane per la vita E chi non è catechista Che cosa dici? A questo ho fatto un esempio Che rimane per tutti noi L'incontro personale È molto importante Cioè anche solo Quando io esco di casa Incontro il vicino di casa Il Papa Francesco Ci ha consegnato Anche quella bellissima Educazione Potremmo dire Della concretezza quotidiana Grazie per favore Prego Cioè il Papa Ci insegna Che è proprio Nella relazione quotidiana Che passa L'incontro con Cristo E questo è un tessuto Che permia completamente L'Evangelii Gaudium Se noi pensiamo Che sia semplicemente Così un programma Tra virgolette Dottrinale O a tavolino Difficilmente lo comprendiamo L'Evangelii Gaudium È un'indicazione Concretissima Posso raccontare Un piccolissimo aneddoto Che c'è all'inizio Abbiamo un minuto Dobbiamo andare in pubblicità Vincissimo Inizio del libro Che riguarda proprio La parte sull'omelia Diceva Papa Francesco Che un giorno Nell'incontro con Don Angelo Che Don Angelo De Donatis Attualmente vicario Per la Cardinale De Donatis Che andando in vacanza I suoi genitori Tornando E disse I suoi genitori Erano molto contenti Perché avevano trovato Una parrocchia Dove il sacerdote celebrava Senza fare l'omelia E diceva Eh sì Perché a volte Quando si partecipa Alla Santa Messa Sacerdoti Dice il Papa Più che un'omelia Sembra quasi Testualmente dice Un'ode funebre Per cui la gente Dopo un minuto Si è già distratta O non vede l'ora Di uscire di chiesa La concretezza Semplice Nell'arrivare Al cuore dell'uomo Questo è Tra virgolette Il mestiere di ogni cristiano E poi c'è un'altra parola centrale Questa parola è gioia Ma ne parliamo Oltre pochissimo Dopo la pubblicità Vi aspettiamo Se noi andiamo così Nella presenza del Signore Il nostro cuore Sempre sarà nella gioia Di nuovo in diretta Con oggi c'è Don Gabriele Maria Corini Insieme a noi vogliamo ascoltare Quello che il Papa ci ha detto ieri Nella Domenica della Gioia Ha parlato appunto Di questo sentimento Di questa esperienza Che peraltro è presente Fateci caso Un po' la parola gioia In tutti i documenti Del suo magistero E la parola gioia È una esperienza Che chi sente la buona notizia Non può non fare Ascoltiamo il Papa In un borgo sperduto della Galilea Nel cuore di una giovane donna Ignota al mondo Dio accende la gentilla Dio accende la gentilla Della felicità per il mondo intero E oggi lo stesso annuncio È rivolto alla Chiesa Chiamata ad accogliere il Vangelo Perché diventa carne Vita concreta E dice alla Chiesa A tutti noi Rallegrati piccola comunità cristiana Povera e umile Ma bella ai miei occhi Perché desideri ardentemente il mio regno Hai fame di sete e di giustizia Tessi con pazienza trame di pace Non insegui i potenti di turno Ma rimani fedelmente accanto ai poveri E così non hai paura di nulla Ma il tuo cuore è nella gioia Se noi andiamo così nella presenza del Signore Il nostro cuore sempre sarà nella gioia La gioia di alto livello Quando c'è piena, piena È la gioia umile di tutti i giorni Cioè la pace La pace è la gioia più piccola Ma è gioia Ma perché il Papa ci parla sempre di gioia? Domenica l'avete fatto tutti In tutte le parrocchie La Domenica della gioia E vabbè Però appunto dicevamo Il Magistero del Papa È segnato in qualche modo dalla gioia Evangelii Gaudium Amoris Laetitia Laudato si Laudato si Gaudete Exultate Sì La gioia Come ricorda anche San Paolo È dono dello spirito E quindi è caratteristica fondamentale Dell'identità cristiana Non è da confondere con un semplice sentimento Ma è proprio uno stato di vita Che dono Ma anche nel dono ricevuto della gioia Ecco Ci identifica come cristiani nella nostra vita Ecco perché è così importante Ed è lo strumento attraverso il quale Noi lasciamo incontrare Gesù Penso che anche nell'esperienza quotidiana Se appunto Prendo un'altra parola Che usa spesso Papa Francesco La nostra faccia da funerale Difficilmente fa arrivare al cuore dell'uomo La presenza di Gesù Mentre la gioia Che non è semplicemente la felicità Per desideri realizzati Per una vita senza problemi La gioia è portare Gesù nel cuore La gioia è sapere che nella propria vita Nonostante i problemi che la caratterizzano Noi abbiamo con noi Ecco la presenza del Signore Nella nostra quotidianità E questo non diventa ipocrisia Se lo si dice anche a chi è afflitto Perché le beatitudini si radicano Proprio su questa gioia Che viene dall'amore stesso del Signore Ecco perché ad esempio In Gaudete ed Exultate Ma anche in Evangelii Gaudium C'è un aspetto che forse mai più Si sarebbe immaginato un Papa Potesse sottolineare Quello del umorismo Avere senso dell'umorismo Non solo perché ci aiuta A non radicalizzare i problemi della vita E non focalizzare solo Sugli aspetti negativi Ma perché avere senso dell'umorismo È l'espressione esteriore Della gioia che uno porta nel cuore Ma si può Visto che abbiamo parlato di conversione Ci si può convertire Alla gioia Perché messa così Sembra una cosa Sono due concetti distantissimi La conversione Noi la interpretiamo sempre Come un atto di volontà La gioia invece È qualcosa di spontaneo La conversione è gioia Se noi vediamo tutti anche i personaggi Dei Vangeli Che incontrando il Signore Hanno percorso questo cammino di conversione È stato sempre un cammino di gioia Un esempio Una persona che non si è voluto convertire E che ha voltato le spalle al Signore Giovane Ricco Che va via triste Perché la gioia è realmente Il frutto della conversione Perché? Perché non è sforzo personale Non è realizzazione di sé È quel primato del dono Che si costruisce giorno per giorno Di cui parlavamo prima E quindi è radicata nell'amore Più io mi dono nell'amore Più cresce la gioia in me Senti a proposito di gioia Oggi abbiamo detto È un giorno di festa È il compleanno del Papa Tu hai fatto gli auguri all'inizio Ma ne volevi fare un altro augurio Pure alla fine Perché? Che vuoi dire? Sì, volevo raccontare un piccolo aneddoto Che mi è stato anche a mia volta raccontato Che riguarda la vita di Giovanni Paolo II Ma che vorrei oggi consegnare Proprio a Papa Francesco Di un cardinale Che ricevuto in udienza particolare Personale da San Giovanni Paolo II Al termine dell'udienza Gli venne spontaneo Abbracciare Papa Giovanni Paolo II E dirgli le voglio bene Poi tornando nel suo appartamento Alla sera Gli venne lo scrupolo Eh ma nei confronti del Papa Mi sono lasciato andare E quindi decide la sera Di telefonare al segretario di Stato E dice Guardi Eminenza Mi è accaduto qualcosa Che non mi so perdonare Nell'incontro col Santo Padre E che cosa è accaduto? Cioè guardi Al termine dell'udienza Ho abbracciato il Santo Padre Dicendole Le voglio bene Eminenza Non ha fatto bene Ha fatto benissimo Lei non sa Quante volte il Papa Si può sentire solo Nel suo ministero E quanto fa bene al Papa Sentirsi dire Ti voglio bene E allora io direi A nome non solo qui dei presenti Ma di tutte le persone Che quotidianamente Il Papa Nelle udienze Negli angelus E negli incontri Nei colloqui personali E nei colloqui personali incontra A nome loro Gli diciamo proprio Santità Le vogliamo bene Allora diciamo davvero Anche se non ci sta sentendo In questo momento Noi lo diciamo tutti Tutto anche il pubblico Da casa Papa Francesco Ti vogliamo bene Grazie davvero Don Gabriele Il momento Del rosario In diretta Allora Lourdes Oggi il Papa Ha ricevuto La commissione internazionale Contro la pena di morte Ha parlato Della disumanità Di questa scelta Che ancora Alcuni paesi Al mondo Troppi paesi Al mondo Fanno E allora Ci facciamo accompagnare Da parole dette In altre circostanze Dal Papa Proprio contro La pena di morte Ci vediamo domani Si giunga Ad un consenso Internazionale Per Per l'abolizione Della pena di morte Tutti i cristiani E gli uomini Di buona volontà Sono chiamati oggi Ad operare Non solo Per l'abolizione Della pena di morte Ma anche al fine Di migliorare Le condizioni Carcerarie Nel rispetto Della dignità umana Delle persone Private Della libertà